123 lago di bracciano conquistato e adesso tutta verso roma non male anche qua ragazzi direi proprio di no gopro arresta video eccoci qua ragazzi manca poco poco saremo a san pietro 100 metri più 100 metri si intravedono le colonne benvenuti a san pietro ci siamo bella storia che dire ragazzi è una bella emozione arrivare in bici fino a qua sono belle sensazioni è inutile dirle che bisogna provarle per capirle fino in fondo però è bello perché è un è un raggiungimento di un obiettivo dici tanto tempo che dicevo che volevo venire a roma in bicicletta soprattutto piazza san pietro che bella anche da qua emozioni forti non si trovano nemmeno le parole non non Sì. Piazza del Popolo, benvenuti, welcome, facciamo un bel giro dell'Ubelisco, becchiato dell'Ubelisco, allora l'avvia del Corso, qua sopra abbiamo Villa Borghese, qua ci sono io e qua c'è l'Ubelisco e andiamo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.